al titolo versus individual contributor e sostanzialmente adesso andiamo a vedere proprio anche qual è la differenza tra questi tipi di ruolo quindi vediamo di cosa andiamo a parlare innanzitutto parliamo dell'individual contributor classico nerd il manager e la career ladder in realtà parleremo dell'opposto di queste cose perché queste qui sono quelle come vengono viste nella maniera classica invece ne parleremo nella maniera corretta di come avviene nell'ambito tech oggi e questo ve lo posso dire in particolare sulla base delle mie esperienze come già mi ha presentato Giovanni sono il fondatore, il sito mentor del sito mastermind che è appunto la comunità di leader tecnologici di oggi e di domani e questo mi ha dato la possibilità di vedere proprio direttamente con le persone che già svolgono questo tipo di ruolo o lo vogliono svolgere quali sono le sfide e le caratteristiche per diventare manager oppure quando decidere se rimanere individual contributor e stessa cosa in Inno Team quindi con il mio team ho avuto la possibilità in tanti anni di vedere proprio in diretta con le persone anche qui quali erano più diciamo adatte ad avere un certo tipo di carriera piuttosto che rimanere in quella di sviluppo e in Accelerant invece andando a fare consulenza per altre aziende tech ho avuto la possibilità di vedere quali sono i problemi di team di leadership e di management e di dinamiche che si hanno all'interno di gruppi di lavoro da piccoli a grandi però prima di capire bene la differenza tra l'individuo del contributor e manager e capire poi se diventare un manager oppure no ho bisogno di soffermarmi qualche minuto sul concetto della career ladder ladder significa scala infatti noi spesso possiamo vedere la progressione della carriera di uno sviluppatore proprio come se fosse una sorta di scala però cosa significa diciamo portare avanti i gradini di questa scala significa diventare sempre più di livello più alto però qui esce fuori questo principio di Peter che è stato visto essere veramente pervasivo nelle organizzazioni ve lo leggo in una gerarchia ogni dipendente tende a salire di grado fino al proprio livello di incompetenza cosa vuol dire che le persone quando vengono promosse se non c'è un certo tipo di progressione come vedremo fa poco vanno a finire in un ruolo perché nel ruolo che avevano prima erano molto brave e quindi il management dice ah è stato molto bravo questo portiamolo al livello successivo facciamolo diventare ad esempio manager no e quando a un certo punto arriviamo ad un livello che non è più quello per la cui la persona è adatta ecco che si realizza questo principio di Peter che questo porta anche a dire di conseguenza che tutto il lavoro viene svolto da quegli impiegati che non hanno ancora raggiunto il proprio livello di incompetenza ecco questo è un classico ed è proprio un classico che noi vediamo in quelle slide che vi ho fatto vedere prima dove il mid-year contributor aveva la faccia del nerd il manager aveva una faccia minacciosa e la career ladder era semplicemente un modo per scaricare i problemi sugli altri quelli che stanno in fondo si prendono i problemi di tutti quelli in cima noi dobbiamo scardinare questa cosa qui perché se non impostiamo nell'azienda un certo tipo di percorso ecco che diventare manager diventa in realtà un qualcosa che nessuno vuole e soprattutto non è ciò che funziona sono tanti gli esempi di persone di bravissimi sviluppatori che appunto proprio per il fatto che sono senior hanno gestito bene la loro parte di stack tecnologico di codice eccetera vengono visti con bravi e magari vengono fatti diventare manager senza però capire cosa vuol dire manager quando invece potevano essere promossi in un altro tipo di carriera ecco che allora nascono i problemi che portano questo tipo di impostazione però un problema di fondo è proprio come è fatta la career ladder allora questo qui è un esempio è uno dei tanti esempi in realtà perché in base al tipo di azienda in base al tipo di team in base a ciò che si fa se è un'azienda di prodotto se è un'azienda di consulenza se è un reparto tech all'interno di un'azienda più grande che fa anche prodotti e servizi tradizionali ecco cambia molto però come potete vedere la career ladder in realtà non è un'unica scala c'è un bivio a un certo punto il problema è quando invece c'è una progressione unica che è quello che succede molte volte cioè invece da avere questa divisione vedete qui c'è la progressione a sinistra in cui da engineer a 1 2 e 3 arriviamo fino a principal engineer ecco che invece subito dopo in una career ladder di tipo singolo che è quello che succede in molte aziende che sono disfunzionali partiamo con cuori di management management inteso come gestione di persone tendenzialmente ma in quel tipo di organizzazioni non solo diventa anche gestione di risorse project management classico management tradizionale tutte le cose che appunto non funzionano quando invece c'è la possibilità per un bravo sviluppatore o comunque un engineer un devops engineer o comunque una figura tecnica di progredire senza diventare per forza manager è questo che manca in tante aziende manca proprio la possibilità di fare questo tipo di progresso senza dover per forza a un certo punto fare una carriera per la quale non si è portati per essere promossi quindi adesso qui lo vediamo che il discorso engineering manager parte da engineer 3 come vi dicevo questo tipo di ladder è solo un esempio perché engineer 3 tipicamente è il senior developer l'engineer 1 è il junior developer l'engineer 2 è il developer senza nessuna indicazione e così via quindi tipicamente se noi guardiamo questo tipo di organizzazione la consideriamo però nell'ambito di un'organizzazione tech la delivery quindi non stiamo considerando tutta l'azienda perché poi ci sono track differenti per il resto dell'azienda quindi per il reparto marketing per il reparto a supporto è un altro tipo di impostazione qui lo vediamo soltanto per questa fetta qui quindi quando parliamo di manager nel contesto di questa presentazione parliamo di un manager di tipo engineering manager sostanzialmente e parte proprio da engineer 3 cioè da senior proprio perché qui diamo per scontato e così deve essere che una figura manageriale in l'ambito tech comunque deve avere delle competenze questo lo vedremo anche più avanti perché è un punto molto importante quindi noi dobbiamo essere sicuri che stiamo lavorando in un'azienda che ha o avrà un'impostazione di questo tipo qui perché è l'unica che può funzionare bene ora è chiaro che qui stiamo parlando appunto di una progressione di carriera ci sono tante aziende dove in realtà bigono altri concetti come ad esempio open governance gerarchia piatta o addirittura senza di gerarchia e sono anche aziende dove vengono portati avanti i concetti come olocracy o cose di questo genere e va bene diciamo alcune aziende tendono a non avere questo tipo di suddivisione ci sta diciamo che ogni azienda cerchi di attrarre il tipo di persone più funzionali alla propria organizzazione quindi va benissimo anche se un'azienda non ha un'organizzazione e ci sono persone che preferiscono non far parte di una gerarchia è assolutamente valido però nella maggior parte dei casi si è visto che è veramente umano il fatto che comunque le persone vogliono sentirsi o valorizzate vogliono avere un'idea di progressione di carriera e considerate che questo qui è anche una questione di talent acquisition e retention c'è un esempio una statistica fatta da linkedin recente per la quale soprattutto nel nostro ambito la maggior parte degli sviluppatori vanno via da un'azienda o sono attratti da un'altra azienda proprio per il fatto che nella precedente azienda non c'era questa professione o almeno un'indicazione di massima così come nella nuova azienda invece c'è una possibilità di fare carriera molte volte le persone cambiano lavoro proprio per questo non solo per l'arallo o perché si trovano male ma proprio perché non vedono un certo tipo di progressione questo è chiaro che è difficile da attuare in un'azienda che ha 5 persone 10 persone massimo ma dopo una certa dimensione diventa invece un problema e l'ho sperimentato anche io stesso nella mia stessa azienda perché finché eravamo poche persone non è che c'era spazio per dire che c'è qualcuno che fa il manager eccetera ma quando si raggiungono le 15 persone le 20 persone adesso siamo a 25 fra un po' diventeremo 35 eccetera ecco che la cosa cambia completamente perciò questo è un tipo di cosa di discorso che studio e applico da anni soprattutto nelle consulenze clienti vado proprio a sistemare e lo sto iniziando ad applicare anche proprio nella mia azienda perché in effetti sono stati dei casi in passato in cui persone sono andate via perché non c'era un'indicazione di questa progressione di carriera ed è importante insomma quindi averla e sapere a questo punto qual è di questo bivio la direzione giusta perché il fulcro di tutto questo di questo talk è proprio questo cioè capire se rimanere nella parte di sinistra o a un certo punto andare verso quella di destra quindi ricapitolando alcuni dei problemi da Creer Ladder è che non è una scala unica il problema è che se è l'unico modo per programmire e gestire persone abbiamo una disfunzionalità che è quella che ci soppriamo perché se un senior developer sopra non ha altri passaggi può solo diventare un engineer manager o chiamiamolo come vogliamo sono tanti i nomi è tech tech lead dalla parte sviluppo team leader dalla parte management piuttosto che software developer sono veramente tanti è inutile qui che faccio una una visitazione completa di queste figure perché sono dei siti dove proprio vengono fatte vedere anche quelle che sono le Creer Ladder di tante aziende come Google Facebook Apple ma anche altre sia di prodotto che di consulenza in base al modello più adatto per la propria azienda quindi è chiaro che noi andiamo in un discorso di dual ladder e una cosa importante è che i livelli e i ruoli sono cose diverse perché ora tipicamente se noi torniamo nella slide precedente guardiamo qui questa progressione quindi lato individual contributor noi qui abbiamo soprattutto dei livelli più che dei ruoli dei livelli di esperienza di competenza che non per forza devono esserci degli slot liberi per diventare uno staff engineer un senior staff engineer eccetera uno staff engineer in altre organizzazioni viene chiamato architect ad esempio semplicemente a un certo punto l'azienda il team prende atto che quella persona ha raggiunto in base a certi criteri che devono essere questi formalizzati questo importante ha raggiunto un certo livello però quel livello non è per forza un ruolo perché uno staff engineer o un senior staff engineer non per forza hanno un ruolo organizzativo semmai hanno un ruolo nel prendere certi tipi di decisione perché il senior staff engineer sicuramente ha più voci in capitolo di un junior engineer nel definire l'architettura di un prodotto o nel dire se andiamo ad applicare un certo design pattern piuttosto che un altro quindi è un po' una questione di leadership naturale tecnica che quindi non è un ruolo soltanto un grado di competenza quando parliamo invece di figure come vediamo qui engineering major di retrof engineering eccetera eccetera invece parliamo di ruoli quindi non soltanto di livelli di competenza poi è chiaro che probabilmente è un director of engineering anche qualche soft skill in più di un engineering major ma in quel caso diventa una questione di ruolo e un'altra cosa importante è questa che di nuovo a seconda delle organizzazioni noi possiamo avere la situazione in cui o si è solo individual contributor o si è solo manager oppure ci possono essere organizzazioni che tendenzialmente sono quelle che preferisco dove le due cose possono anche convivere dove quindi ad esempio oltre ad essere un engineering major si è anche uno staff engineer su LinkedIn si può osservare sono tante aziende dove vediamo ho fatto proprio un caso effettivo di una persona molto brava che è staff engineer and engineering manager è del tutto normale perché ad esempio in realtà di consulenza o di aziende di prodotto che hanno un certo tipo di impostazione comunque si continua a scrivere del codice nel tempo si può anche iniziare a gestire delle persone poi dopo come vedremo se si vuole fare molto bene il lavoro del manager è chiaro che la parte sviluppo un pochino ne va a risentire però è vero lo stesso perché anche le figure più senior hanno lo stesso problema e anche questo dopo lo vedremo quindi in realtà le due cose possono coesistere assolutamente e quindi il mio invito è cercare di capire se nella propria azienda vige un certo tipo di impostazione di questo tipo qui e se non c'è nel caso si può provare a proporre perché è una cosa che ho visto funzionare molto bene un'altra cosa importante è che si può tornare anche nell'altro track nel senso che ci sono tanti casi di persone che questo lo vediamo anche proprio nella community di sito mastermind c'è anche un contenuto che potete vedere su youtube di un CTO che a un certo punto si è reso conto che preferiva essere un devops engineer e quindi è voluto tornare a essere un leader contributor ed era felice di questo è assolutamente una cosa normale fare questo perché se si accorge che non si è effettivamente portati per un tipo di ruolo manageriale va benissimo ritornare nell'altro ambito e o viceversa quindi è una cosa che possiamo assolutamente considerare possibile e anche quindi di uno stimolo anche capire provare anche un certo tipo di carriera diversa per vedere se è qualcosa che fa perché se sappiamo che comunque possiamo tornare anche dall'altra parte siamo sicuri che non ci sono problemi quindi su questo poi c'è appunto un approfondimento che potete dire a parte però è una cosa assolutamente dignitosa allora la chiave del discorso management oggi della rilevanza che ha soprattutto in ambito tech è che come potete vedere lo sviluppo di software è ormai più un problema di persone che di tecnologia ormai è un pezzo che si dice questo in realtà non l'ho inventato io è una cosa che ormai è barata per scontata nel senso che a livello tecnologico ormai abbiamo tanto i bei gingilloni tecnologie piattaforme cloud linguaggi framework ormai possiamo risolvere tanti di quei problemi che soltanto c'è l'imbarazzo della scelta sulla soluzione ok poi magari chiaro che c'è bisogno di competenze di bravura di best practice di tante cose di questo genere ma chi ha sperimentato il lavoro di gruppo e qualsiasi cosa complessa questo prodotto complesso richiede il lavoro di gruppo ecco che ci si rende conto inevitabilmente che problemi stanno più nel trattare con le persone che non con i computer è questo il punto ed è ancora più vero perché come vediamo qua in un mondo come quello odierno sappiamo benissimo che non si si ferma più per tanti anni nella stessa azienda ed è anche per questo che il focus risposta la tecnologia alle persone viene anche cercare di capire come trattenerle perché proprio il modo in cui le gestiamo le persone fa sì che a sua volta decidano molto spesso di rimanere o no in azienda proprio per come le si gestisce tante volte infatti riprendo dopo la statistica che dicevo prima di linkedin molte persone vanno in certe aziende proprio perché sanno per reputazione recensione altro che sono meglio organizzati sono più attenti alla gestione delle persone quindi il fatto di gestirle bene queste persone per un manager è fondamentale perché è una cosa che senza va a finire che si perde buona parte del team questo è assolutamente vero soprattutto in questi ultimi anni in cui sicuramente molti di voi lo sanno c'è un turnover veramente micidiale e quindi potete vedere che proprio la massima sfida di un manager è proprio quella di far sì che i talenti le persone possano lavorare il più possibile per il più lungo possibile lasso di tempo con soddisfazione con felicità in azienda ma allo stesso tempo aiutarli anche quando queste persone decidono di cambiare perché lo dobbiamo comunque dare per scontato anche se siamo bravissimi è diventato abbastanza normale che comunque ci sia lo stesso un certo tipo di turnover anche questo qui ne dobbiamo prendere atto lo possiamo solo mitigare più siamo bravi come manager è più mitigato ma ci sarà sempre un certo tipo di ricambio anche se siamo un'azienda molto bella facciamo progetti molto belli lo vedo costantemente proprio tra la community di sito mastermind accelerant aziende con grande reputazione e persone che lo stesso vanno via quindi un manager bravo deve essere in grado di trattenerle le persone oltre che attrarle ecco che di nuovo quindi torniamo al concetto che ad oggi il problema che dobbiamo gestire come manager è più quello delle persone che non della tecnologia in sé detto questo dobbiamo però capire se vogliamo diventare veramente un manager e come facciamo a capirlo non è facile non è facile assolutamente però c'è tutta una serie di domande qui vediamo che ci aiutano a capire se la carriera del manager è quella che fa per noi oppure se dobbiamo rimanere più un individual contributor allora qui ho fatto una carrellata qui abbiamo innanzitutto il concetto se ci piace risolvere problemi oppure se preferiamo aiutare gli altri a risolverli è estinzione importante questa perché adesso qui anche in questa slide vedete che ho fatto una prima parte che è quella che contraddistingue più l'individuo al contributo e quella sotto quella più di manager quindi adesso qui in maniera stringata diciamo che un'individuo al contributo è un problem solver una persona un esperto a cui gli altri si rivolgono per risolvere i problemi tecnici mentre un manager è colui che comprende quali sono i punti di forza del team ascolta i problemi delle persone risolve i conflitti che sono inevitabili e soprattutto li aiuta a risolvere i problemi non li risolve per loro ma li aiuta connette le persone fa sì che ci sia un certo tipo di clima quindi fa anche coaching nel modo di risolvere i problemi poi dopo c'è la persona tecnica brava che li risolve quindi è una distinzione sottile ma è importante questa se preferiamo essere noi a scrivere codici risolve il problema oppure aiutare gli altri a far sì che possano farlo nel modo migliore e quindi per fare questo però è importante che se uno vuole intermargere sappia che deve trovare soddisfazione proprio nell'aiutare gli altri proprio un vero piacere no? è una cosa che gli dà molta soddisfazione a far sì che un altro abbia risolto dei problemi o che abbia raggiunto i loro obiettivi infatti molte volte un manager si occupa non soltanto di gestire team in sé ma anche aiuta le persone nel loro percorso di carriera anche nello sviluppo personale a esserli più felici questo è fondamentale questo manager fa buona parte del tempo inoltre un manager identifica a questo punto nella situazione corrente qual è un obiettivo un risultato da conseguire un rischio un problema e capisce qual è la persona più adatta a risolverlo e poi gli dà supporto a questa persona quindi questa qui è la prima domanda da porsi per capire quale delle due carriere fa più per noi dopodiché dobbiamo capire dove potremmo portare il maggiore impatto in un senso positivo perché se guardiamo quello che è un individuo al contributo quindi un bravo sviluppatore ecco sicuramente un developer un architect eccetera piace costruire dei bei progettoni con tutte le best practice il codice fare refactoring renderlo scalabile fare il profiling ottimizzare le performance eccetera eccetera è una cosa che illumina gli occhi fare questo quindi per una persona del genere è una soddisfazione enorme proprio scrivere il codice migliorarlo scalarlo è una creatura il codice per un individual contributor io stesso lo so perché quando ero piccolo scrivo codice a me è sempre piaciuto creare sistemi eccetera poi contemporaneamente a un certo punto mi è piaciuto anche gestire le persone quindi anche qui ho visto entrambe le cose ma la sensazione è proprio quella di far evolvere una creatura che si è contribuito a far nascere allo stesso tempo come diciamo anche prima i mezzi la trovano soddisfazione nel far crescere gli altri e farne da codice da mentore anche in alcune case ma soprattutto da codice cioè da allenatore cioè aiutarli mettere nelle condizioni in cui queste persone possono dare il meglio di sé anche se in un certo momento magari ci sono dei problemi magari una persona che in quel momento è negativa stressata o ha certi problemi non ha magari un certo tipo di know-how ecco comunque cerca lo stesso innanzitutto di estrarre il meglio di farlo crescere di trovare il positivo poi non sempre ci si riesce ma questo fare coaching è un altro elemento che un manager deve avere deve proprio trovare soddisfazione nel fare questa cosa qui in più un manager trova quello che è lo scopo dell'attività e lo comunica meglio al team cioè quando a uno sviluppatore arriva semplicemente un elenco di task da fare senza neanche capire esattamente quello che è l'obiettivo finale chiaramente la motivazione non è mai la massima e questo quando viene avviene quando non c'è qualcuno che faccia capire bene al team in un manager a questo punto qual è il senso di ciò che stiamo scrivendo cioè qual è l'obiettivo da raggiungere ad esempio nelle user stories è importante l'ultima parte quella di far capire qual è l'obiettivo da raggiungere qual è il beneficio all'utente ad esempio ecco un manager questo qui lo deve veicolare il più possibile chiaramente un manager deve anche avere un po' di visione nel capire quali sono le metriche corrette nel cercare le cose giuste in un progetto poi ci sono dei libri fatti apposta come uno che si chiama Accelerate dove proprio vengono identificate le metriche migliori per far funzionare bene un team ecco questa è sicuramente una delle tante letture che dopo vedremo per un manager che sicuramente deve leggere ecco un'altra domanda importante è se si sa fare content switching è facilmente questo qui è un è un punto molto controverso poi capita che anche un developer in alcuni tipi di aziende situazioni debba fare comunque context switching tipicamente quelle sono aziende o poco sane o dei palazzi in fiamme o certi tipi di agenzie diciamo che non sono di solito ambienti lavorativi giusti per un developer che vuole fare una carriera seria però se il contesto è quello giusto un individual contributor ha la possibilità di focalizzarsi su un task alla volta nel farlo nel modo migliore possibile chiaramente nel limite di quelli che sono i requisiti di un in certi casi c'è anche la possibilità di chiedere il tempo extra per finire una certa funzionalità anche se nel frattempo dal cliente dal committente o comunque da un utente anche interno arriva una nuova richiesta proprio perché comunque per cultura per impostazione c'è questa possibilità qui viceversa un manager invece deve fare in maniera naturale context winching perché perché deve gestire varie persone team molte priorità task grandi task piccoli riunioni di diversa dimensione con diverse persone con persone interne persone esterne eccetera che possono essere anche conflitto tra di loro tra l'altro quindi deve per forza fare multitasking poi è chiaro che ci si cerca di concentrare il più possibile ma ad esempio la mia agenda spesso è una giornata tipo alcune volte c'è otto riunioni una di mezz'ora una di due una di un'ora tant'è vero che molte volte devo bloccare il tempo nel mio calendario per poi dedicarmi ad altre cose focalizzarmi ma è normale in più tra le varie chat le varie mail arrivano tante cose da gestire bisogna essere un po' bravi anche a a gestire questo tipo di flusso continuo di attività eventi da portare avanti quindi adesso non lo voglio mettere in un'ottica negativa questo semplicemente dire che la normalità che c'è un cambio di contesto continuo però c'è il modo di farlo senza stressarsi in maniera produttiva poi anche qui dopo magari vediamo qualche tecnica velocemente però sicuramente se una persona ha difficoltà ha bisogno proprio di rimanere concentrato il tipico sviluppatore che sta con le cuffie a sentire la musica per evitare di sentire anche il minimo di rumore per rimanere nel flow eccetera tutto giustissimo però se una persona non riesce a fare nulla se c'è un po' di content switching probabilmente non è adatto a fare il manager in più e qui è l'ultimo punto che vediamo qui che un manager deve anche avere a che fare continuamente con persone che hanno caratteri di personalità anche molto diverse dalle tre di loro e anche diversi livelli di maturità indipendentemente da quello che poi è anche il loro livello formale c'è anche il senior che comunque fa arrabbiare oppure viceversa quindi da un momento all'altro capita di dover gestire persone completamente diverse ma bisogna cercare di trattarle tutte con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di fare le cose poi è chiaro che sono persone più piacevoli di meno però un manager gestisce persone è chiaro che deve sentirsi di poter avere a che fare con persone che hanno proprio impostazioni molto diverse tra di loro quindi questo è il contest switching un punto fondamentale del concetto di management questo è un altro punto veramente importante quello di essere sia duri che morbidi ma in base alla situazione allora diciamo così che chi sviluppa lo vediamo spesso dove ci sono tanti conflitti sono proprio netting di sviluppo dove ci sono persone che hanno opinioni diverse su come realizzare una certa cosa su quale tecnologia utilizzare se quella classe bisogna fare refactoring eccetera eccetera e così via quindi lì spesso tra persone più tecniche più di sviluppo eccetera si è anche duri certe volte perché uno magari vuole avere ragione per forza oppure uno è convinto della qualità di quello che sta facendo eccetera eccetera quindi spesso un individuo al contributo se lo potete vi volete permettere di essere un po' un po' duro poi questo appunto si porta a dei conflitti è chiaro che poi dopo diventa negativa la cosa invece un manager è importante che sappia quando essere duro e quando invece essere più soft sia con il team in generale che anche con le singole persone allora c'è un problema di fondo che se il manager è morbido quando non ha problemi è tranquillo non c'è nessuna emergenza e invece quando c'è stress sull'emergenza c'è qualche situazione diventa duro ecco allora quello è un problema perché non è il giusto modo di gestire questo tipo di atteggiamento perché quello di essere duri o morbidi è proprio un tool nella cassetta degli attrezzi del manager e come indicato qui non è uno stato d'animo quindi non è che se io sono tranquillo sono morbido con il team e viceversa se sono incavolato iniziato a fermare le persone assolutamente deve essere in questo caso una sorta di leadership anche situazionale infatti ci sono tanti tipi di leadership quelle più gerarchiche quelle più autoritarie quelle più inclusive eccetera una che ho visto funzionare bene è proprio quella situazionale con la quale ci si parla con il comportamento in base al contesto e quello di essere duri o morbidi in base al contesto e non in base a come sia in quel momento è importante quindi certe volte tocca mordersi la lingua e non essere duri ma non perché bisogna ingoiare cose ma perché in quel momento la giusta via d'azione è quella di essere più morbidi con il team in altri casi bisogna essere duri e quindi questa però è anche una capacità che è una soft skill da costruire perché non tutti sono capaci di dare feedback positivo o negativo anche questo dopo lo vedremo un altro punto importante quindi questo qui è uno strumento estremamente importante come gestire il team quando essere più duri più morbidi bisogna padroneggiarlo e se si pensa di non essere in grado di fare ciò anche qui consiglio di non portare avanti una carriera manageriale poi sei disposto a guidare le persone guidare in termini di leadership quindi lead allora è chiaro che come è scritto qui un ideal contributor si prende la responsabilità di ciò che scrive di ciò che ha progettato la propria architettura quindi è una responsabilità tecnica ok ma fondamentalmente non sempre se il prodotto fallisce il progetto fallisce sono gli sviluppatori che ne risentono che vengono additati poi anche qui dipende molto dalla cultura aziendale sono contesti in cui purtroppo gli sviluppatori lavorano con il fucile ha puntato contro la realtà di diverse aziende deteriori ma io qui parlo sempre come dovrebbe essere e lo dire che in realtà nella maggior parte delle aziende che vedo si lavora nel modo giusto quindi a quel punto cosa accade che invece è il manager che si deve assumere la responsabilità dei risultati del team nel senso non di prendersi meriti ma di essere lui la persona che se c'è qualcosa che non va si prende le colpe c'è un detto adesso non mi ricordo chi l'aveva scritto che se le cose vanno bene è merito del team se le cose sono andate abbastanza bene è merito nostro se le cose sono andate male è colpa mia mia come manager quindi questo per far capire qual è il mindset giusto quindi un manager deve sicuramente essere una persona che sa riconoscere i meriti delle singole persone e quando c'è un bel risultato positivo deve anche far sì che queste vittorie queste cose possano essere celebrate assieme si possono anche fare degli eventi dei kudos pubblici eccetera d'altro canto se qualcosa è fallito il manager si deve assumere la responsabilità questo è fondamentale ma non perché si deve sacrificare semplicemente perché tante scelte alla fine in realtà sono responsabilità del manager cioè il stesso come imprenditore qualsiasi cosa vada male in azienda anche lì per lì posso dire ah quella persona ha fatto così oppure colpa sua eccetera ma un secondo dopo alla fine mi rendo conto è sempre colma mia perché quella persona l'ho sentita io quella persona l'ho fatta lavorare io in quella situazione cioè alla fine il CEO in azienda è colui che è colpevole di tutto ma allo stesso modo il manager per la sua parte di team è colpevole lo stesso e questo è un tipo di mindset importante quindi se non ci si sente portati a questo tipo di cosa di nuovo è meglio rimanere developer piuttosto che manager qui una piccola parentesi visto che abbiamo parlato di leadership questo non è tanto una domanda da porsi ma alcune caratteristiche che contraddistinguono un leader quindi un manager noi parliamo quando parlo di manager comunque parlo sempre di una persona che guida un leader di non un burocrate una persona che gestisce risorse un project manager vecchio stile quindi un primo punto è quello di vedere il potenziale delle persone ad esempio quando si fanno i colloqui quello che accade è che si valuta la persona in base a quello che è oggi quindi il fatto che conosce una certa tecnologia ad un certo livello sa fare refactoring sa cos'è cosa sono i principi solid eccetera eccetera oppure non li sa e viceversa però deve essere anche in grado di capire in base al colloquio alla persona con certe domande anche dove potenzialmente potrebbe essere investendo su quella persona quindi è un po' il discorso di Michelangelo quando faceva le sue sculture c'era il pezzo di marmo ma lui vedeva il potenziale dentro quel pezzo di marmo e questo è il concetto di base la stessa cosa chiaramente non solo quando stiamo selezionando persone da assumere ma anche quando ce le abbiamo in casa capire dove sta il potenziale quindi non valutare solo per quello che è oggi ma cercare di vedere questa cosa qui perché poi come dicevo prima è proprio compito del manager fare da coach nel far crescere questo potenziale poi un'altra cosa importante è quello del guardare avanti e non perdere la karma quando le cose vanno male perché andranno male prima o poi questo cosa vuol dire vuol dire anche avere un certo tipo di attitudine per la quale comunque noi guardiamo al futuro cerchiamo di prevedere anche gli scenari peggiori di quello che potrebbe accadere al team alla azienda eccetera ma lavorare per ottenere risultato positivo e se qualche problema c'è non dobbiamo appunto perdere andare in ansia perdere la patente eccetera dobbiamo ottenere i nervi salili più possibile dobbiamo guardare come comunque possiamo correggere la situazione non dobbiamo essere non ci dobbiamo far affossare dal problema del momento quindi questa è un'altra cosa che ispira molto le persone perché un leader se si fa prendere dal panico poi dopo le persone che stanno sotto la sua gestione lo percepiscono e non lo vedono più come un leader non è più dopo la persona che è in grado di guidare il team anche nella difficoltà se è lui il primo che si fa prendere dal panico ecco qual è il punto quindi questo è un punto da sviluppare se non lo si è già poi dicevo anche prima bisogna essere a proprio agio nel dare costituzionalmente feedback positivo ma anche negativo ai singoli membri del team ad esempio questo qui è un problema che ho avuto per anni io ho sempre avuto difficoltà a dire no alle persone piuttosto che a dire a una persona che ha fatto una cosa sbagliata è un tratto che io ho dovuto migliorare per forza ci sto lavorando anche adesso è una cosa è un soft skill sicuramente fondamentale perché e qui ci sono tanti modi per farlo ci sono tante filosofie dopo vediamo anche velocemente un libro che dà proprio un'idea di come farlo ecco però dare un feedback anche negativo ma costruttivo quindi nei modi giusti è fondamentale di nuovo per la crescita delle persone che noi gestiamo perché fare coaching è anche questo cioè far capire alle persone dove stanno sbagliando dargli l'opportunità di migliorare chiaramente se pensiamo che sia una situazione recuperabile poi ci sono dei casi in cui capiamo che in una situazione recuperabile forse una certa persona non è finita nel team barra azienda adatta in quel caso è giusto prendere strade distinte ma al di là di questo caso specifico dare feedback negativo è fondamentale però bisogna saperlo fare e bisogna essere in grado di farlo è una cosa che molti sviluppatori molte persone che nascono con il new york contributor non sono in grado di fare non se lo sentono e quando devono dare un feedback negativo poi lo fanno in una maniera sbagliata e dopo si fanno odiare delle persone e qui infatti arriviamo ad un punto tra l'altro importante che sempre riprendendo le statistiche di linkedin che dicevo prima comunque molte persone oltre al discorso che manca un percorso di carriera se ne vanno perché perché il loro manager non gli piaceva quindi questo qui è un fattore di nuovo che è importante che molte persone se ne vanno via per il loro manager che questo qui non è nulla di nuovo però se uno vuole inter manager deve tenere conto che certi suoi comportamenti possono far andare via le persone ok e quindi dare feedback negativo nel modo sbagliato uno di questi quindi questo è un altro punto da costruire poi quell'essere altruisti che dicevo prima cioè senza ego quindi in questo senso che vale anche per chi è un deliver contributor ma è ancora più vero però per chi gestisce un team quindi il fatto che dicevo prima anche che comunque bisogna celebrare le vittorie prendersi le colpe e dare invece meriti agli altri ecco questo è importante quindi non si può essere incentrati solo su se stessi ah il mio team ha vinto un certo progetto grazie a me oppure sono stato bravo è andato tutto bene cioè no non è questo perché se ragioniamo così allora non siamo di nuovo un leader ma siamo un boss ci sono le classiche vignette che avremmo visto mille volte tutti su linkedin boss versus leader qui non dico di nuovo ma è un altro punto fondamentale di leadership ma torniamo a questo punto alle nostre belle domande per capire di nuovo se diventare manager o no allora qui un po' questa cosa va anche nei concetti di t-shaped competenze eccetera diciamo che dobbiamo capire se preferiamo essere più specializzati in qualcosa oppure avere più una competenza orizzontale ampia la tendenza per un leader contributor chiaramente diventare specialista nella propria materia poi anche qui è vero che cerchiamo il magico full stack developer piuttosto che il generalista bravo in alcune cose però alla fine comunque un certo livello di specializzazione la si costruisce per forte perché in un certo momento o lavoriamo su front end o su back end e nello specifico lo facciamo con un certo linguaggio e ancora più nello specifico con un certo framework è chiaro che per almeno una fetta di tempo siamo specialisti di qualcosa d'altro canto un manager ha una tendenza diversa nonostante il fatto che comunque magari un manager ha ancora appunto il desiderio di rimanere un tecnico bravo di rimanere aggiornato sugli aspetti tecnici io stesso io da quando ero piccolo mi divertivo a spattaccare col comero 64 scrivere codici mettere in rete computer parliamo degli anni 80 quindi sono tanti anni che mi piace fare queste cose qui ero sempre avanti su tutto io conoscevo sempre l'ultima novità di quel linguaggio di quella tecnologia eccetera a un certo punto questo è andato a farsi benedire io adesso nella mia stessa azienda ho tante persone molto più brave di me sulle singole cose io ho dovuto sviluppare altri tipi di competenza perché nel gestire le persone non riusciamo più a rimanere perfettamente aggiornati sulle tecnologie sul framework le cose di ultimo grido eccetera bisogna a quel punto fidarsi di persone brave che sono a questo punto più di noi che a questo punto sono nell'altro track quello dell'individuo contributor che evolve ok quindi in questo caso però è importante che un manager intanto come dicevo prima è importante che comunque ci sia una base tecnica lo rivediamo di nuovo dopo ma sicuramente deve comunque sviluppare quel tanto che basta di competenze tecniche per dire che comunque ancora riesce a capire almeno a livello di architettura di utilizzo di contesto lo scopo di certe tecnologie per magari capire se un certo tipo di direzione giusta ma senza dover entrare nel dettaglio o nel singolo task perché non è più fattibile va delegato questo infatti la delega è un altro un altro concetto importante per un manager ok quindi c'è da dire però come dicevo anche prima che spesso questo accade anche agli sviluppatori più senior soprattutto quando raggiungono i gradini più alti di quella ladder che abbiamo visto prima perché più sono senior poi più di nuovo comunque devono aiutare dal punto di vista tecnico però non di gestione delle persone altre persone e sono più in termini di gestire il processo di sviluppo decidere la tecnologia eccetera quindi anche molti senior purtroppo questa cosa comunque ci arrivano quindi non è una cosa solo da manager sicuramente manager questo lo soffre molto di più quindi un manager non ha proprio il tempo purtroppo per rimanere tecnico come un leader contributor ma è importante invece diventano specialisti nelle soft skill nei metodi di gestione manageriale ma anche qui non quelli classici fordisti eccetera quelli moderni chiaramente c'è tanto anche qui da vedere da studiare da ci sono tanti testi poi dopo vediamo alcune fonti preziose dove dove attingere per capire come costruire proprio questi tipi di skill ok un'altra domanda è chiedersi però che tipo di persona si è realmente cos'è che ci motiva perché se pensiamo che le riunioni siano una cosa noiosa se non ci sentiamo produttivi se non stando con le cuffie a testa bassa con la tastiera scrivere codice risolvere problemi e invece troviamo una cosa non produttiva a parlare con gli altri cose di questo genere però tendenzialmente anche qui di nuovo siamo più un individuo da contributor che era un manager viceversa se un pensiero costante che si ha nella testa è ma questa cosa si potrebbe migliorare così no anche il modo di lavorare i processi aziendali come si fanno riunioni cose di questo tipo ecco se si è invece un po' più questo focus si è più diciamo mentalmente pronti ad essere un manager infatti anche nella mia azienda ci sono persone di questo tipo che hanno avuto spazio in questo senso perché si chiedono costantemente ma come possiamo migliorare il modo in cui lavoriamo ma perché questa cosa non c'è in azienda ma come possiamo premiare meglio le persone eccetera eccetera ecco queste sono cose che ci portano a dire di più che potremmo avere una carriera valida in ambito manager un'altra domanda è questa qui quanto crediamo nel costruire relazioni nel connettere persone ad esempio anche qui di nuovo un leader contributor è un leader naturale come dicevo prima dal punto di vista tecnico perché le persone le attrae nel senso che è un bravo problem solver magari è il mister Wolf di turno è chiaro che le persone vanno da lui ma non nel senso che è lui che magari attivamente cerca di costruire delle relazioni è una cosa diversa invece un manager sulle relazioni deve investire molto quindi se si è come in realtà un po' sono comunque anch'io rimango sempre un orso nella propria caverna ripeto anche su questo ho lavorato tanto negli anni l'ho cambiato ma un pochino questo aspetto ogni tanto si fa risentire bisogna però essere comunque anche se magari non è la inclinazione naturale però sentirsi che comunque costruire relazioni è una cosa fattibile sulla quale puntare perché sicuramente a questo punto un manager deve conoscere bene le proprie persone deve capire chi è la persona più adatta a risolvere un certo tipo di problema o a chi applicare un certo tipo di contesto questo in generale per affrontare in maniera più rapida ed efficiente i problemi che è il team che l'azienda devono affrontare quindi diciamo che un manager crede più di un intero contributo nel costruire relazioni e quindi anche connettere le persone in più anche fuori dall'azienda perché ci sono tante cose persone al di fuori che possono aiutare il team quindi è un'altra cosa sulla quale investire quindi a questo punto dopo che ci siamo risposti a tutte queste domande come si diventa un manager perché se più o meno ci siamo pensiamo che sulla base di quelle domande tutto sommato comunque un manager possiamo provare a diventarlo però la domanda è proprio come si fa a diventarlo allora qui c'è un problema di fondo che vediamo che soprattutto per creare manageriali in ambito tech non c'è molto ci sono i corsi di formazione per diventare un manager in generale l'università autoformazione corsi test c'è un'infinità però persone come CTO tech lead eccetera non hanno tante fonti soprattutto non hanno tante possibilità di confronto ma vediamo innanzitutto qual è il primo passo per diventare manager ma allora innanzitutto non per forza dobbiamo averlo già questo titolo di manager per iniziare a diventare un leader è come detto di iniziare a vestirsi per come si vuole diventare cioè se che so se non è il caso in un ambito tech ma se c'è una persona che in un certo contesto si veste giacca e cravatta perché nel suo contesto essere giacca e cravatta significa avere un certo tipo di impostazione o viceversa avere un altro tipo di abbigliamento iniziare già a vestirsi in quel modo è un primo passo questa è una metafora nel senso che se ancora siamo individui al contributo ma iniziamo a fare qualche esperimento a connettersi con le persone a capire i loro problemi a fare anche informalmente degli one on one ecco iniziamo a sperimentare a capire meglio se poi effettivamente questa è una carriera che fa per noi quindi non aspettiamo di essere promossi in questo senso anzi prepariamoci e facciamoci vedere che siamo pronti per essere promossi questo è un altro consiglio che do in generale anche l'individuo al contributor che si dico ma perché non sono stato promosso a senior in certa volta anche perché non hai fatto nulla per farti evidenziare in quel senso anche se lo sei poi è chiaro che le persone che stanno sopra di te come diciamo prima devono essere brave a capire il tuo potenziale ma se lo nascondi questo potenziale uno può essere anche bravo lato management ma poi ha difficoltà ok quindi anche qui iniziare a far vedere che si è pronti quindi sperimentare quindi anche senza aspettare di avere il titolo qui poi è importante studiare tanto già prima ho citato qualche libro qui ne ho messo un paio a casaccio ma uno che è recente era di Calcandor che questo aiuta a risolvere i problemi anche di suo prima di come dare feedback positivi e negativi soprattutto oppure un super classico come trattare gli altri e farsi gli amici ma non nel senso ruffiano non è quello il concetto perché quello è sbagliato è come trattare correttamente altre persone volendogli veramente fare del bene quindi quello è il punto e non quindi manipolandole per in realtà tirare fuori il meglio di loro anche anche costruire relazioni in modo corretto e così via ma sono tanti testi allora una cosa che vi voglio segnalare c'è una playlist nella youtube del mastermind del studio mastermind che si chiama proprio must learn cioè io ogni settimana parlo con un CTO un leader tech facciamo un video su un podcast cioè lo trovate su internet cercate il CTO show del CTO podcast queste due cose e ad ognuno di loro chiedo quali sono i libri che li hanno aiutati in qualche modo a diventare leader e qui abbiamo raccolto qualche decina di questi libri sono tutti veramente interessanti qualcuno più tecnico qualcuno più di leadership ma trovate veramente delle perle molto molto interessanti ogni video spiega in grandi linee cosa c'è di contenuto chiaramente bisogna approfondirlo il libro poi un'altra cosa fondamentale è fare questi one on one a parte che è proprio una fetta importante di un manager è proprio una fetta del tempo è proprio quella di fare one on one anche qui farli è già un modo per costruirsi quei soft skill per iniziare a comprendere meglio le persone quindi proprio anche volendo fare una transizione ad individuare il contributo al manager è con l'ultima cosa da fare proprio day one prendere l'elenco delle persone nel team e fissare subito un one on one di mezz'ora con ognuno di loro poi bisogna farli costantemente a seconda del tipo di organizzazione di team di maturità del team delle persone eccetera ci sono casi in cui gli one on one si fanno tutte le settimane in altri casi una volta al mese c'è già trovata la dimensione giusta chiaramente però vanno fatti e vanno fatti continuamente quindi questo qui è un altro modo per diventare manager perché più se ne fanno più si diventa bravi essere manager fondamentalmente quindi è un altro consiglio importante questo poi conservando gli skill tecnici perché comunque stiamo parlando di gestire persone che sono fortemente tecniche in più alcune volte una manager del track management deve comunque sostituire provvisoriamente anche figure di avanzate anche lato track tech perché ad esempio magari se in quel momento il tech lead quindi una figura non di team leader ma tech lead quindi track tech in quel momento non c'è perché sta male o qualsiasi altro problema o in ferie eccetera certe volte è l'engineering manager che lo sostituisce ok quindi alcune volte è lui che deve risolvere alcuni problemi anche tecnici quindi comunque un minimo di aggiornamento deve rimanere nonostante quello che ho detto prima che poi è più difficile farlo quindi il fatto di partire comunque da essere una persona già senior è importante ecco perché prima vi dicevo nella ladder che idealmente il manager parte da quando si è senior o lo si sta diventando sostanzialmente ok quindi questo è un altro punto importante che è quello di saper gestire il tempo le priorità che ne so c'è la matrice di Eisenhower sono tante tecniche tecniche di produttività bloccare il tempo nel calendario mille cose che ne so io per bloccare il tempo in maniera efficiente nel settare le riunioni uso un tool come Calendly blocco il mio tempo quando voglio lavorare su una cosa sberettamente nel calendario perché se no non c'è mai il tempo per farlo poi una cosa se non è scritta per me non esiste quindi prendo sempre gli appunti faccio sempre dei verbali qualcosa di questo tipo quindi diventare dei maestri della produttività gestione del tempo quindi queste sono cose che ci portano a diventare sicuramente efficaci e poi è quella che dicevo prima il fatto che purtroppo non c'è molto modo di confrontarsi perché diventare manager ripeto qui non c'è il corso per diventare engineering manager cto eccetera che c'è in altri tipi di ambiti è importante confrontarsi tra pari ecco l'esempio perché comunque costruito una community come per il sito mastermind ormai sono più di 300 membri sono cto team leader figure che vogliono diventarlo un confronto tra pari è fondamentale a questo punto di vista perché non dobbiamo arimentare la ruota dobbiamo attingere da chi già c'è passato e sederci anche nelle spalle dei giganti ecco perché abbiamo cto leader di tutti i livelli abbiamo dei cto di grandi multinazionali di start up che ormai sono diventate scale up molto famose ma abbiamo anche quelli delle piccole start up quelli che ancora vogliono diventare perché si si confronta si impara l'uno dall'altro si fa anche mentoring e cose di questo genere infatti quello del mentoring è un altro punto importante proprio per il fatto che anche qui non c'è una formazione specifica si rimenta sempre la ruota poter affidarsi a una persona che già c'è passato e attingere la sua esperienza ci dà il boost molto importante quindi detto questo io ho listrato i vari punti chi desidera rimanere appunto in contatto con una community di leader già che lo sono ad oggi che lo vogliono diventare c'è la community del sito mastermind assolutamente gratuita è basata innanzitutto su workspace su slack con vari canali che c'è uno screenshot sono tante discussioni domande contributi poi ci sono tanti contenuti che facciamo il podcast i video mille cose veramente lì avete tante cose da cui imparare in più per chi vuole fare qualche approfondimento anche in forma privata con me assolutamente gratuita c'è anche qui il mio link di Calendly citando il tool di prima per fissare una call di una mezz'oretta se qualcuno ha qualche dubbio eccetera adesso direi di lasciare pro spazio intanto alle vostre domande poi se non abbiamo abbastanza spazio dopo fissate pure su Calendly con me che vado a rispondere eventuali domande non risposte grazie mille Alex intanto stoppo la registrazione che vado a rispondere che vado a rispondere grazie a tutti